Salve a tutti e benvenuti in questa nuova recensione Ed un bel po' che non vi faccio vedere Ma per vari motivi e situazioni non ho più dovuto girare manco un video Oggi recensione dedicata al mio grandissimo amico Salvo Ciao Salvucci E il film oggi che parleremo Dedicato al mio amico È Soul Legacy Ovvero l'ottavo capitolo di Soul Io non ci speravo più che uscisse Che ho avuto un po' una situazione Che usciva ogni anno L'interesse era svanito Quindi sembrava strano Dopo sette anni Ritorna Soul Io sorpresi Ho detto micchia Ritorna? Buono Chi lo gira? Due fratelli che sanno il fatto loro con Predestination L'ultimo film che ho fatto è stato La vedova Winchester Qualche volta poi ve ne parlerò Un film fatto bene ma Vi dico soltanto che Lo sono andato a vederlo con un mio amico E ci siamo quasi addormentati Ma a parte questo poi ne parleremo Parliamo di Soul Trama semplice Cioè proprio Ritorniamo proprio al classico E vediamo questo Tizio che scappa Che è al telefono con Jigsaw Che gli dà degli ordini La polizia lo insegue Dice Che stai facendo? E lui dice È Jigsaw che mi sta Sto giocando Questo tizio viene sparato Che gli esplode praticamente la mano E praticamente inizia l'indagine Di questi due detective Che cercano di capire Cioè Kramer se è tornato o meno Non so chi è che sta vedendo la recensione Non posso fare le spalle Perché Jigsaw È scomparso da un bel po' E sembra strano che sia ritornato di nuovo A fare i giochi Quindi Gli fanno fare l'autopsia A questo corpo di questo giocatore A questi due Che fanno Questi due dottori Che fanno Le autopsie C'è ovviamente Un tizio che Boh Non lo so Sembra un modello Non so Però fa autopsie È un puttanone Con i capelli rossi Che anche lei Sembra Uscita ovviamente Da un porno Dice ok Questi due fanno I dottori Ma è anche per Non ci puoi credere Che fanno i dottori Ma fanno i dottori Vi ingrifferete Soprattutto i maschietti Con la ragazza Con i capelli rossi Buona veramente A parte questo Prendete trovano degli indizi E tutto riporta Prendete che Questo qua Stava facendo il gioco Di Jigsaw I detective Dicono È impossibile Cioè loro rimangono E non può essere ritornato E quindi inizia l'indagine Prendete E si passa Prendete al gioco Vediamo quattro giocatori Anzi cinque giocatori Sono tre maschi E due ragazze Che sono legati Col collo Con questa catena Che ci sta Una sega circolare Avanti A trenta metri Da loro Quindi Si risvegliano lì Tirati Per il collo E cercano di capire Che cacchio sta succedendo Che minchia Ci fanno lì Legati a sta catena Con una sega circolare Davanti E quindi C'è un becille Che veramente Si è addormentato Lì vicino Con tutto ciò Che lui viene trascinato Non se ne rende conto E da lì in poi Inizia il gioco Il gioco vero e proprio Molto interessante Anche Le morti Cioè io non voglio Spoilerarvi Quindi prendete La trama passa Tra i giocatori Che giocano E i detective Che cercano di capire Se sia Jigsaw O un clone Di Jigsaw Un fan Uno che vuole Emularlo E quindi Il film è interessante Si lascia Guarda io l'ho visto Con piacere La seconda volta Perché la prima volta Che l'ho visto È stato al cinema Sempre con Questo mio amico E Abbiamo visto un po' male Perché il cinema C'era problemi Di audio Quindi un po' Non ce lo siamo goduti Fortunatamente A casa Con la tranquillità Ce lo siamo goduti A parte questo Piccola parentesi Il film Merita Merita Cioè soprattutto Se si è fan Di Saw C'è quel Classico Saw Non ci si può dire niente Ci sono i suoi piccoli Colpi di scena Molto violento Gli effetti speciali Ovviamente sono fatti Benissimo Il sangue Scorre a fiumi Fatto bene tutto Gambe mozzate Teste che saltano Fatte bene Come tutti gli altri Saw Non dispiace Sembra che Sembra che Un inizio Vorrebbero fare Una nuova saga Merita Merita Non Praticamente Si vedono I vari giochini Uno dopo l'altro Come al solito Che la gente Stronza Con tutto ciò Che vede Che sono Venite lì Perché hanno fatto qualcosa No non ho fatto niente Non ho fatto niente Grazie al cazzo Non sareste qua Se non avessi fatto niente Quindi non rompere i coglioni Niente Tutto qua Io non posso dirvi di più Non voglio spoilerarvi Andatevi a guardare So Legacy Anche se non avete visto gli altri Non lo so Recuperateli Vi divertite Vi divertite Vi sparate tutte Oltre Fate sta pazzia Vi risaluto di nuovo Vado Alla prossima recensione Ciao ragazzi